Associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e alla turbativa d'asta. Questa l'accusa a carico di dirigenti e funzionari del comune di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli ai quali la polizia in queste ore ha notificato una serie di misure cautelari degli arresti domiciliari, con decine di perquisizioni a carico anche di esponenti politici locali. Secondo le prime indiscrezioni sarebbero stati notificati avvisi di garanzia a carico dell'attuale sindaco Giorgio Zinno e del suo predecessore Mimmo Giorgiano. Nel mirino degli inquirenti, gli appalti al comune. L'indagine, stando a quanto si apprende, nascerebbe da una gola profonda vicina all'amministrazione e comunque a conoscenza di molti segreti del palazzo. Attraverso l'analisi del materiale investigativo complessivamente acquisito è stato possibile accertare l'esistenza di un vero e proprio sistema operativo all'interno del settore infrastrutture del citato comune, funzionale al controllo delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, sistema in grado di garantire l'aggiudicazione dei lavori in massima parte alle ditte perfettamente integrate in detto sistema. In particolare, dalle indagini è emerso che al fine di avvantaggiare le imprese nell'aggiudicazione delle gare, l'associazione ha posto in essere un escamotage consistente nella modifica dei punteggi riconosciuti in sede di valutazione dell'offerta economica più vantaggiosa e che in numerose occasioni funzionari infedeli si interfacciavano direttamente col responsabile tecnico delle ditte da favorire, contribuendo concretamente alla compilazione del computometrico dalle gare all'offerta cura delle imprese che partecipano alla gara. L'associazione favoriva le ditte colluse anche nella fase successiva all'aggiudicazione della gara, prodigandosi per avvantaggiarle nel pagamento degli stati di avanzamento, in particolare incidendo sugli aumenti delle spese impreviste e degli oneri di scarico e sicurezza, in modo da consentire il recupero di quanto perso in sede di ribasso. Mi è stato consegnato un avviso di garanzia ed affermo nella maniera più forte e decisa di essere completamente estraneo alle vicende contestate e le prime dichiarazioni del sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. In questo momento sono come tutti i giorni al lavoro nel mio ufficio al comune, nell'esclusivo interesse della città. Esprimo nella massima serenità, piena fiducia nella magistratura e nelle forze dell'ordine che stanno svolgendo questa indagine ed attendo di essere messo da loro a conoscenza di ulteriori e più chiari elementi prima di dare un giudizio su quanto sta avvenendo in queste ore. Sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. Il comune che mi onoro di guidare è una casa di vetro e l'assoluta trasparenza il cardine della mia azione amministrativa. Conclude il sindaco Giorgio Zinno.